Non molto fa vi ho mostrato in un unboxing dal Giappone questo, il Nintendo DSi esclusivo di Kingdom Hearts. È un DSi bellissimo, tenuto in maniera impeccabile e soprattutto a livello di collezionismo... Wow, è veramente bello! È meraviglioso! Ma oggi andiamo un pochino oltre una console portatile. Oggi unboxeremo una console fissa. Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo unboxing. Come potete vedere è enorme cacchio. Bellissimo. Piccolo preambolo di perché ho comprato questa roba e del come ci sono arrivato ad ottenerla adesso. Tanto è inutile che faccio tanti preamboli, l'ho già scritto che cos'è nel titolo, ma devo creare un po' di suspense, no? Quando uscì questa console, beh, effettivamente l'idea di prenderla c'era. Come saprete però, quel caro negozio di cui si parla ultimamente tanto, che vende roba usata e console, ha fatto un po' la stronza e come sempre mi ha impedito di comprarlo. Quindi nel tempo ho pensato, la voglio, la voglio, la voglio, la voglio, la voglio, fino a che non è uscita la PS5 e lì ho detto, cavolo, se prenderò una PS5 vorrei prendere un'edizione comunque limitata. Non vado a prendere accerto al Day One e non mi prenderò di nuovo un'edizione base. Però quella voglia di avere questa in particolare ce l'ho sempre avuta, essendo comunque una versione avanzata della PS4 normale. Quindi direi di non perderci oltre e aprire subito questo paccone. Ecco a voi la PS4 Pro edizione limitata di Kingdom Hearts 3. Devo assolutamente ringraziare la mia ragazza perché se non fosse stato per il suo aiuto non saremmo mai riusciti ad ottenere questa console. Perché, cavolo, sì, effettivamente per molti può essere solo una PlayStation Pro. Per molti può essere solo una PlayStation 4 Pro edizione limitata qualsiasi. Ma per me questa è un'edizione limitata di Kingdom Hearts e questo già, cioè, vale tutto. Vale tutto, sinceramente, rispetto a molti prezzi che abbiamo visto, di cui non voglio fare i numeri questa volta. Di molte che ho visto online che venivano anche fuori dall'Italia e, tra parentesi, in Italia ce ne erano veramente poche di questa, il prezzo che l'abbiamo pagata è stato il prezzo più basso e sinceramente più onesto che potevamo trovare. E nonostante siano passati anni da quando è stata prodotta e in commercio, ovviamente, non ce ne sono più, il fatto di avere questa, beh, è molto, molto importante per me. Ma non perdiamoci ancora in chiacchiere e apriamola subito. Eccola qua. Allora, a livello di scatola è un po' ammaccata ed effettivamente quello che ce l'ha venduta ce l'aveva detto. Però l'importante non è tanto la scatola, ma è quello che c'è dentro. Quindi, apriamola e vediamo cosa ci troviamo all'interno. Primo scatolone troviamo l'edizione deluxe di Kingdom Hearts 3, che io già possiedo. Oh, 13 anni di attesa per questo! 13 anni! Grazie! All'interno della deluxe troviamo il gioco, l'artbook, la steelbook e la spilletta. E questo, nonostante sia bello, lo venderemo. Ma ora, il pezzo grosso, letteralmente. E la madonna, quanto pesi! Eccolo qua! Dentro questo scatolone troveremo la nostra PS4 Pro di Kingdom Hearts. Ecco qua! Prima cosa che abbiamo trovato. Cavi, HDMI, alimentazione, il cavo del controller. E, parlando del controller, eccolo qua! Va che bello che è! È un po' zozzo, è un po' impolverato e questa cosa... Però, va che bello tutti i rilievi di Kingdom Hearts. Al posto delle freccette, la corona, i vari simboli. Invece di essere colorati, i tasti sono in bianco e nero. Bello! Alla fine è un controller nero con tutti quanti i rilievi di Kingdom Hearts. Ma è comunque molto bello. Togliendo questi, libretti per l'uso della PS4 Pro, le cuffiette. Ed infine, via cartone, occupa spazio. Togliamo la rimanente plastica. Ed eccola qui! Va che bellina che è! Oh, che bello! Guardate com'è stupenda! Con tutti i rilievi di Kingdom Hearts. È una PlayStation 4 Pro nera alla fine, ma tutta fatta bene. Mi piace un sacco. Sul davanti abbiamo anche i vari simboli di Kingdom Hearts. Heartless, la corona, il cuore, topolino. Bellissima! Veramente stupenda! E ora voi vi chiederete... Ha senso comprare una PS4 anche Pro, nonostante ora sia uscita la PS5? Sì, assolutamente! Come ho già spiegato prima, questa sì è una PlayStation 4 Pro, è vero, ma è una PlayStation 4 Pro edizione limitata. Già per quello vale l'averla comprata. E oltre a questo, la PS5, come anche la nuova Xbox, o anche la Switch, o anche la stessa PS4, quando uscirono, hanno dei problemi all'inizio. Quindi non c'è molto da fidarsi di comprare una console nel primo anno, secondo me. Poi magari sbaglio, e magari c'è uno che ce l'ha dal Day One che gli funziona da Dio. Per carità! Buon per te! Ma, avendo io una PS4 base, ed essendo questa una PS4 comunque Pro, il salto di qualità c'è. E poi dai, cavolo! Va che bella! Va com'è! Bella questa console, santo cielo! Il venditore è stato molto onesto, appena avuto il pagamento, subito è andato a spedirla. L'imballaggio, come avete visto, era comunque ben fatto, ben sigillato. La scatola sì, ha un po' di ammacchima, quello già c'era scritto, ma l'importante è che sia questa a funzionare. Poi la scatola, che sia un po' rovinata, amen, non è un problema. Anche se il controller, una pulitina magari gliela potevamo dare, no? Però, vabbè, dai, non mi posso lamentare. Voi, invece, avete fatto qualche nuovo acquisto di recente? Vi siete comprati una limited edition o vi siete tolti una soddisfazione personale nell'ultimo periodo? Scrivetemelo pure qua sotto. Quindi, signori, vi ringrazio come al solito per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovarmi sul sito Viola, in cui, beh, potrete trovarmi a provare questa bella signorina. Signori, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! 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 Grazie a tutti.